Sì, siamo già pronti, vogliamo partire in anteprima perché comunque le opportunità mai farsene sfuggire e quindi abbiamo iniziato con questi due progetti, Ivrea, Vignaioli in città e Brindisi di Natale che poi si trasforma in Natale in cantina. Progetti molto particolari, curiosi e in collaborazione anche con altri enti. Sì, sono bellissimi perché abbiamo messo insieme praticamente il territorio e questo ci lusinga moltissimo e le aziende coinvolte a 360 gradi, quindi non solo i nostri consorziati ma anche le aziende consorziate all'ASCOM o ad altre associazioni, inoltre la Rossetto SRL, ci ha dato un grande risalto e soprattutto avremo delle bellissime opportunità. E poi una particolarità golosa che consiste in un concorso che riguarda i panettoni, un connubio con i due prodotti. Esatto, questa è una bellissima sfida perché come giustamente diceva prima il pasticcere è facile vincere facile con alcuni prodotti, invece abbiamo lanciato questa sfida dando dei prodotti completamente diversi da quelli che loro sono abituati a usare e quindi un doc carema o un doc cannavese rosso all'interno della ricetta fantastico, oltre all'inserimento delle tre tipologie caluso passito, spumante e fermo. Per festeggiare i dieci anni di denominazione di Caluso DOCG una serie di eventi è organizzato in collaborazione tra il Consorzio e tra l'ASCOM, quindi unire quello che è il vino al commercio. Esatto, è stata una bella idea, l'abbiamo promossa insieme con Caterina Andorno, grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Torino per quel che riguarda Ivrea e anche il Comune di Ivrea ovviamente. Il format è interessante, nel senso che i negozi del centro di Ivrea si sono entusiasmati a quest'idea di poter avere delle cantine del territorio, le eccellenze da proporre nei loro negozi. I negozi saranno prettamente di abbigliamento, comunque non food e non bar e ristoranti e sarà bello avere questo connubio dove all'interno del negozio un viticoltore esperto spiegherà i suoi prodotti e infatti abbiamo denominato il connubio shopping di vino, proprio perché sarà una giornata appassionante, un pomeriggio in realtà, il 30 novembre dalle 15 alle 19, un pomeriggio lungo le vie del centro, quindi possibilità di shopping di vino e di abbigliamento. Infatti la cosa particolare è proprio la cantina che va all'interno del negozio. Esatto, avremo al di fuori del negozio un segno distintivo, la cantina all'interno dove ci sarà l'esperto che presenterà il suo prodotto, lo potrà far degustare e comunque potrà anche venderlo.